E' stato un fine settimana intenso per Lampedusa, tra accuse e polemiche sollevate dalla lettera aperta scritta dal primo cittadino, Salvatore Martello, per chiedere l'intervento delle istituzioni centrali. Tutto è iniziato quando, nella tarda serata di sabato, il nuovo primo cittadino eletto nel corso delle ultime amministrative ha invocato, rivolgendosi anche ai media nazionali, il ripristino di normali condizioni di ordine pubblico a Lampedusa, nonché la chiusura del locale hotspot, che, secondo Martello, non avrebbe standard di sicurezza tali da evitare problemi ai cittadini dell'isola. Dopo le dichiarazioni del sindaco, immediatamente sono iniziate numerose polemiche. Il predecessore di Martello, ossia Giuse Nicolini, ha parlato di vero e proprio terrorismo attuato dal primo cittadino per mere speculazioni politiche. A livello nazionale la distanza tra i due sindaci è apparsa quasi abissale, nonostante siano entrambi espressione del centro-sinistra. Anche nella giornata di domenica non sono mancate reazioni favorevoli o contrarie alle dichiarazioni di Martello. Lo stesso primo cittadino delle pelagge è poi tornato sull'argomento, spedendo al mittente soprattutto le accuse di razzismo. Non sono razzista, ha infatti tonato Martello. In Italia, però, serve alzare la voce se si vogliono risolvere dei problemi. Dopo la mia lettera aperta, la situazione è tornata alla normalità e di centro nuovamente la sua funzionalità e ringrazio in tal senso le forze dell'ordine, ha ancora dichiarato Martello. In questa estate 2017, l'isola di Lampedusa è stata nuovamente sotto pressione per quanto concerne il fenomeno migratorio. Dalla Tunisia, infatti, sono arrivati diversi barconi e, assieme alle coste dell'Agrigentino, il problema ha riguardato soprattutto i cosiddetti sbarchi fantasma. Con il mare in buone condizioni, il flusso migratorio dalle coste tunisine potrebbe continuare anche nei prossimi giorni.